Calaiò col sinistro, parte Emanuele, tiro, è parata, parata del portiere, parata, ancora una volta Calaiò si fa parare il rigore ed è assurdo, assurdo che lo facciano ancora tirare, incredibile, come lo scorso anno Calaiò si è fatto parare il rigore da Campagnolo, quando il Napoli ha domistiche e implacabile, non capisco perché Calaiò che si lamenta perché non gioca, poi va sul dischetto e sistematicamente si fa parare il tiro, nello stesso modo in cui parò il portiere del Modena, Calaiò si è fatto parare il rigore, calcio d'angolo, batte Amsic, palla in aria, allontana la regina.